Finalmente una città senza passaggi a livello, senza più attese nello smog durante gli orari di punta. A Barletta è stato cancellato definitivamente anche il secondo punto di intersezione a raso fra la strada e i binari della rete ferroviaria ed è stato aperto al traffico il sottovia Carrabile e Pedonale di via Vittorio Veneto, una circonvallazione interna che partendo da via Le Marconi arriva in via Andrea. Si è trattato di un'opera molto complessa che ha determinato difficoltà progettuali, varianti, necessità di riassettare il computo metrico, necessità di parlare con molti molti enti, un lavoro davvero complesso. Basti di dirvi che sono stati rimossi 30-35 mila metri cubi di terreno, sono stati immessi circa 15 mila metri cubi di cemento, è stata rifatta tutta la progettazione della rete idrica e fognaria, tutta la progettazione della rete trasmissione dati. L'opera rientra nel programma di eliminazione di tutti i passaggi a livello sul territorio comunale, attuato da Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del gruppo FS. Sono stati realizzati inoltre due sottovia e un sottopasso pedonale, in sostituzione dei passaggi a livello di via Madonna dello Sterpeto, chiuso nel 2016, e di via Milano, chiuso nel 2018. Per dovere di ufficio ringrazio anche i sindaci che mi hanno preceduto, perché questo è un lavoro che veniva pensato circa 25 anni fa. Penso che i cittadini saranno soddisfatti e continuiamo a lavorare per il bene comune. Auguri a tutti quanti noi e buone vacanze!